La connessione tra le persone che vivono in generazioni diverse secondo me è essenziale per una serie di motivi. Il primo che mi viene in mente è quello che riguarda la continuità della cultura, la continuità del pensiero, soprattutto la continuità della storia. Il rapporto tra generazioni è un qualcosa di molto importante, di raro, che magari in passato esisteva in modo più saldo, oggi meno, però è fondamentale da entrambe le parti. Questo mescolarsi tra generazioni credo che sia una cosa importantissima, anche per mescolare appunto un po' di saggezza diciamo con un po' di incoscienza e intraprendenza. Senza dubbio non si cresce. Grazie. 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 Grazie.